Siamo all'EUR fermata metropolitana Fermi, eccola qui, fermata metropolitana EUR Fermi e oggi vogliamo provare il funzionamento del nuovo bike sharing Go B Bike sarebbe un sistema che consente di noleggiare le biciclette ottenendone il noleggio nel luogo in cui si trovano, geolocalizzate ovviamente bene noi abbiamo aperto questa app e abbiamo cercato le biciclette che appena dieci giorni fa sono state posizionate in numero di una decina proprio di fronte alla fermata EUR Fermi ora la geolocalizzazione ci indica che sono a fianco delle fermate ma così come potete vedere non è che si trovano lungo via Boston questa è via Boston in fondo potete osservare l'albergo che sorgerà al servizio della nuvola del centro congressi, la cosiddetta lama ma di biciclette qui non ce n'è neanche l'ombra il sistema sicuramente può essere vandalizzato come ha dimostrato il fatto che alla sua immissione ben tre biciclette sono state recuperate dai vigili urbani nel campo ROM di via di Solone a Milano queste biciclette sono state gettate nei navigli e recuperate appunto sott'acqua una bicicletta per esempio ci viene indicata ai piedi della torre dell'Eni ma insomma sospettiamo che sia finita nel laghetto ed ecco dove si trovano alcune delle biciclette di bike sharing sono queste verdi di fronte alla fermata EUR Fermi però ovviamente c'è un problema di geolocalizzazione considerate il fatto che il sistema, l'app le indica al fianco di queste fermate e come abbiamo visto prima lungo via Boston all'angolo con Viale America evidentemente questo sistema sperimentale deve essere ancora perfezionato